Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano in questa puntata l'Assemblea plenaria della conferenza delle regioni e delle province autonome che si è tenuta proprio in Palazzo del Pegaso e che si è aperta con un ricordo in memoria delle vittime e degli operai che sono deceduti all'interno del cantiere di via Mariti coinvolti nel drammatico crollo dei giorni scorsi. Un minuto di silenzio per ricordare le cinque vittime dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze. Così si è aperta l'Assemblea plenaria della conferenza delle regioni e delle province autonome nella sala consigliare di Palazzo del Pegaso, un tema, quello della sicurezza sul lavoro, particolarmente sentito e che ha portato alla nomina del Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a coordinatore per lavoro e sicurezza della conferenza. Mi è stato chiesto la responsabilità di coordinare questo lavoro, lo farò insieme a tutti gli altri presidenti pensando che finché anche solo una persona morirà sul luogo di lavoro ognuno di noi deve sentirsi parte di quella responsabilità. È stata una giornata intensa, auguri al nuovo e al mio eletto coordinatore, il Presidente Aurigemma della Regione Lazio, un augurio di buon lavoro e un grazie per quello che ha fatto al Presidente Ciambetti, Presidente del Veneto, ex coordinatore della conferenza. È stata anche una giornata in cui noi abbiamo voluto sottolineare alcune questioni che sono al centro dell'agenda politica, ci confronteremo su tutti i cambiamenti istituzionali che il Governo propone, lo faremo pensando ai ruoli del Consiglio regionale, provando a chiedere che si riallinino le finestre elettorali, perché per partecipare, se vogliamo ci sia più democrazia, dobbiamo cercare anche di accorpare e di tenere insieme. Insomma, sarà un lavoro pensando sempre ai cittadini e ponendoli al centro di tutto il nostro dibattito. E sono felice che tutto questo sia avvenuto oggi qui a Firenze in Toscana. Parliamo anche di geotermia perché dal Consiglio regionale è arrivato l'ok ad una proposta di risoluzione che chiede tempi rapidi per la presentazione del piano pluriennale di investimenti sul territorio. La Giunta regionale è impegnata ad attivarsi in qualità di autorità competente per sollecitare Enel Green Power a presentare il piano pluriennale di investimenti per la geotermia toscana funzionale. In caso di valutazione positiva alla eventuale rimodulazione delle condizioni di esercizio e della durata delle concessioni interessate per un massimo di 20 anni, lo prevede la proposta di risoluzione approvata a maggioranza dall'Aula di Palazzo del Pegaso. La Regione dovrà chiedere a Enel Green Power di presentare un proprio piano pluriennale di investimenti che deve rispondere a tutta una serie di requisiti che la legge individua, quindi la manutenzione e il miglioramento degli impianti attuali, investimenti per nuovi impianti, sicurezza, occupazione, salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute. Alla luce del piano industriale che Enel Green Power presenterà, la Regione sarà chiamata a valutare la fattibilità e la rispondenza di questo piano ai requisiti, ai presupposti della legge e qualora questi presupposti fossero validati, la Regione potrà rinnovare le concessioni per un massimo di 20 anni, quindi un obiettivo importante, un'opportunità da accogliere. Noi con la risoluzione sollecitiamo la Giunta a far presto, perché il termine previsto dalla legge è il 30 giugno 2024, inoltre chiediamo alla Giunta di coinvolgere sia gli enti locali, i comuni, ma anche il tessuto socio-economico di quei territori, di quelle realtà che vivono di geotermia. Ma intanto io penso che sia giusto ringraziare il Governo Meloni e Giorgia Meloni in persona, quale Presidente del Consiglio, che ha firmato quel decreto insieme al Ministro dell'Ambiente. Sembrava fosse una partita impossibile, una partita dove non si sarebbe potuto andare incontro a una proroga così lunga, invece il Governo si è assunto la responsabilità e ha fatto una proroga ventennale per la concessione geotermica. Il Governo è il titolare della concessione, la Regione è la centrale appaltante. Questa proroga è però condizionata, si parla infatti di proroga condizionata al fatto che l'attuale gestore, l'attuale concessionario Enel Green Power presenta un piano industriale entro il 30 giugno 2024 che tenga conto di 5 linee di indirizzo fondamentali, tra le quali garantire il livello occupazionale e la qualità dell'occupazione. Questo piano industriale dovrà essere bollinato, certificato dalla Regione Toscana. Noi oggi chiediamo che la Regione Toscana acceleri, facendosi parte diligente anche nei confronti del gestore, la scrittura di questo piano industriale che convochi allo stesso tavolo l'attuale gestore, ma anche gli enti locali, i comuni interessati, le imprese del territorio, perché chiaramente si tratta di una partita complessa che rappresenta tantissime persone, tanti comuni, che rappresenta l'unica possibilità occupazionale per i comuni coinvolti. Da novembre ad oggi i sindaci, il concessionario Enel Green Power e tutte le imprese, i consorsi di imprese interessati in quel territorio non sono mai stati coinvolti in un tavolo tecnico per capire quale fossero le volontà della Regione Toscana e quale fosse l'intenzione del concessionario. Noi abbiamo chiesto a gran voce alla Giunta regionale che questo percorso di tavolo di accordi tra Enel Green Power, tra i comuni, tra le imprese, le associazioni di categoria inizi il suo percorso, perché il termine ultimo è il termine del 30 giugno. Però la maggior parte anche di quelle amministrazioni, di quei comuni coinvolti nell'area geotermica andranno al voto l'8 e 9 giugno, quindi dal mese di aprile, dalla metà di aprile, saranno in procedura di ordinaria amministrazione. Quindi i sindaci soprattutto ci chiedono di velocizzare questo ITER perché nel momento in cui loro entreranno in campagna elettorale, ma soprattutto dal punto di vista amministrativo, entreranno in ordinaria amministrazione e non avranno più la possibilità di intervenire e dire la loro su quei territori per cui la risorsa geotermica è il petrolio della Toscana. Spazio anche alla scuola con una proposta di legge presentata al Parlamento da parte dell'Assemblea Toscana per chiedere l'istituzione dell'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità. Introdurre nelle scuole anche l'educazione all'emotività, all'affettività e alla sessualità è quanto prevede una proposta di legge al Parlamento, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. L'obiettivo è fornire agli studenti strumenti pratici per comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni in modo sano e costruttivo, stimolando gli stessi a riconoscere e rispettare sia le proprie emozioni che quelle degli altri. È chiaro che non è abbastanza perché quello che sarebbe necessario è che ci fosse un vero percorso formativo con esperti, psicologi, persone in grado di guidare i ragazzi in percorsi di approccio a questi temi, ma intanto se si cominciasse a lasciarli parlare di questi argomenti potremmo consentire a tante magari idee distorte di affiorare. Non mi ha sorpreso, ma mi ha un po' preoccupato il tono specioso ed eccessivamente sulla difensiva delle opposizioni che hanno chiaramente ostacolato la legge, non l'hanno votato contro, appellandosi a ragioni che fanno pensare a un tabù sociale. Ecco, tutto quello che sta nel tabù, che sta nel non detto, non è che i ragazzi non lo frequentano, lo frequentano da soli, si informano da soli su internet dove trovano notizie. Io credo che sia meglio consentire loro di raffrontarsi con adulti educanti presenti che possano magari leggere i segnali di un convincimento sbagliato, di una mente fragile che si sta facendo delle idee pericolose. Questa legge entra a gamba tesa invece dal nostro punto di vista su una sfera che è una sfera che ricade per lo più in quelle che sono anche l'ambito familiare. Io rivendico come genitore la mia libertà di educare mio figlio nel modo che ritengo opportuno, sensibilizzarlo al rispetto di quelli che sono principi e diritti fondamentali della persona. Rifiuto che questo possa farlo la scuola, anche perché se l'educazione sessuale è quella che ad esempio è stata propinata all'interno di un incontro dal comune di Pontassieve dove si invitano gli adolescenti addirittura ad essere sensibilizzati sugli scambi di coppia, voi capite che siamo vicini a una strumentalizzazione su un tema che al contrario non dovrebbe vedere strumentalizzazioni. Oggi siamo di fronte a modelli culturali che ritengo profondamente sbagliati sotto certi punti di vista e addirittura parlare di una società fluida dove i ragazzi di 11, 12, 13, 14 anni possano alzarsi la mattina a sentirsi uomo o donna e questo è ritenuto normale. Io non credo che sia normale. Noi dobbiamo recuperare un patrimonio di valori e dobbiamo farlo perché altrimenti questa società rischia delle profonde derive. Io per primo ho portato nel Consiglio regionale della Toscana una mozione due anni fa che andava in questa direzione. È evidente che la crescita di una persona avviene sotto il punto di vista anche umano, relazionale e soprattutto affettivo. E come tale è bene che la scuola sia il luogo dove si affronta e dove ci si confronta rispetto alla crescita emozionale, affettiva, anche sessuale e soprattutto dove i ragazzi e le ragazze possano confrontarsi con personale competente nella conoscenza. Dalla conoscenza nasce l'approfondimento di temi molto importanti e come tale credo che tutta la dimensione delle relazioni, dell'affettività, del piacere e tutta la dimensione umana della persona abbia un valore altissimo al pari di quello nozionistico o quello culturale. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale e tutti dovremmo essere trasversalmente uniti nel cercare di trovare i mezzi per contrastarla. Sono d'accordo che il centrodestra ha fatto questo importante stanziamento di 15 milioni di euro, va benissimo, non sono certo contraria, mi fa piacere, ma non capisco la loro contrarietà a insegnare l'educazione sessuale e l'affettività nelle scuole. Io, da genitore, preferirei fosse la scuola a farsi carico dell'informazione dei ragazzi piuttosto che internet dove non si sa chi dia le notizie e per quale scopo. Al teatro della Compagnia di Firenze invece gli studenti sono stati sensibilizzati sul tema del linguaggio d'odio e della violenza di genere in un'iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Toscana. Il linguaggio d'odio e la violenza di genere richiedono un impegno collettivo di conoscenza e contrasto, un cambiamento culturale che deve coinvolgere scuole e istituzioni chiamando in causa la coscienza di ciascun individuo, al teatro della Compagnia di Firenze oltre 300 studenti delle scuole superiori si sono confrontati su queste tematiche in un incontro con la scrittrice ed attivista Carlotta Bagnoli. Sicuramente i giovani e le giovani sono molto curiosi, molto più delle persone della mia età, quindi sicuramente creare una connessione sarà più facile. Trovo in tutte le scuole in cui vado una certa curiosità, sarà importante far capire loro l'importanza proprio di questi temi che spesso sono un po' sottovalutati e mancano nei programmi dell'offerta formativa, quindi di base per loro sarà molto nuovo e questo sicuramente li invoglierà a seguire forse con più attenzione per capire un po' di dinamiche che ci sono proprio dietro a questo odio abbastanza diffuso nel modo che abbiamo di comunicare. Noi vogliamo che questo progetto sia fatto sicuramente per loro ma soprattutto con loro, dovrebbero imparare ad apprendere quali sono le diverse forme di violenza, saperle riconoscere e sapere riconoscere quali sono le relazioni positive ma anche quelle negative, quelle che oggi si chiamano tossiche perché la violenza si annida a mille forme e quindi è bene che loro la riconoscano, cerchino di difendersi e anche di difendere i loro coetanei perché solo in questo modo imparando a costruire delle relazioni basate sul rispetto, sulla qualità delle relazioni, sulla libertà della coppia degli individui solo in questo modo si può provenire qualsiasi forma di violenza fino a quella estrema che sono appunto i femminicidi. Noi in questo ambito abbiamo già dei progetti da tempo su cui siamo impegnati, il patentino digitale che proprio serve per formare i ragazzi a una navigazione su internet è consapevole e sicura e poi c'è un tema generale che appunto ci vede impegnati con tutti i corecom italiani nel coordinamento nazionale. Proprio recentemente a Matera abbiamo firmato un patto con il garante per la protezione dei dati personali, il garante della privacy, proprio a tutela dei minori su tutte le attività online. Questi dunque erano tutti i principali argomenti della puntata odierna della Voce del Consiglio, l'appuntamento come sempre è per la prossima settimana su RTV38, grazie per averci seguito e buon proseguimento, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.